ciao ragazzi bentornati sul mio canale e bentornati a un nuovo video speciale oggi si parla di coria beh 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 la nuova espansione che è stata presentata giovedì appunto è oggi è sabato buon sabato e di cui in questo video cercheremo di parlare nuove meccaniche tanto tanto da dire dal punto di vista competitive per quanto riguarda i coria ok cerchiamo analizzare velocemente anche gli spoiler e quant'altro prima di iniziare però volevo dirvi che abbiamo insieme a lorenzo che è uno dei ragazzi che commentava qui nei video ho fondato il mio discord ufficiale quindi per ora ha questo nome mtg o insiders perché appunto insiders è il nome che ho dato alla community a voi voglio spiegarvi proprio brevemente come mai io ho un blog per quanto riguarda i videogiochi io sono un giornalista dei videogiochi tantissimi anni ho scritto per qualunque testata che voi immaginate oggi scrivo per gazzetta dello sport per wired ma ho scritto per game pro per l'edizione italiana di edge ho scritto per giochi per il mio computer per tantissimi per tantissimo tempo e ho avuto un blog dal 2006 circa al 2011 dove praticamente parlavo di gaming e questo blog si chiama inside the game e chiaramente i ragazzi della community erano gli insiders bene a distanza di dieci anni praticamente dalla dall'uccisione di quel progetto su youtube tra l'altro trovate il canale ufficiale con i video che facevamo all'epoca sono molto divertenti uno ha fatto un sacco di views tra l'altro perché parlavamo delle scene di sessioni videogiochi tra l'altro dicevo quindi ho mantenuto questo nome gli insiders e ho intenzione tra l'altro anche di continuare a fare le live su twitch quindi poi i sub saranno gli insiders e saranno coloro i quali avranno accesso a contenuti premium cioè sono tutte idee che ho in mente ma che adesso non sto facendo e che insomma io continuo ragazzi a ringraziarvi per tutto l'affetto che ricevo io cerco di rispondere a tutti i vostri commenti e anche a tutti i dm che mi mandate sapete che non ho lasciato nessuno senza risposta nessuno e continuerò a fare così però cominciate ad essere tanti che è una cosa che non avevo previsto e che sicuramente un po' mi metterà in difficoltà quindi in un modo o nell'altro ci dobbiamo organizzare e magari ci sarà un futuro ci sarà un futuro perché credo spero che questo canale cresca sempre di più dove magari bisogna essere sub per avere dei consigli sul mazzo non lo so onestamente adesso come adesso non ce n'è bisogno però intanto ci creiamo il nostro discord non credo e non so se io sarò tanto attivo ragazzi io ho un lavoro da 8 ore al giorno finora e devo proprio ringraziare che ci sia ancora lavoro per SL lo sapete molti di voi mi seguono nelle telecroniche dei giochi che comunque seguo per quel canale e ho due bambini e una moglie quindi fondamentalmente per me è complicato mi chiedete sempre dai facciamoci una partita io non riesco e fondamentalmente gioco solo da solo è sempre stato un po' un mio limite perché lì almeno il mio tempo mi metto eccetera comunque diciamo che questa introduzione è durata fin troppo e quindi ci possiamo lanciare nella scoperta di Corea scoperta che tra l'altro comincia per quanto mi riguarda un po' di settimane fa quando mi hanno mandato una carta per cui io sono stato su insomma tutte le carte di tutto il mondo uno di quelli che aveva le informazioni prima e che ha spoilerato una carta prima l'ho fatto per every eye con un articolo che trovate in descrizione e che adesso ci andiamo a leggere insieme eccolo qui siamo su every eye tra l'altro o adblock non saranno contenti ragazzi di every eye ragazzi se non avete visto questo video vi lascio anche questo in descrizione è fichissimo io sto super in hype bellissimo cioè Vivian mi ha fatto veramente cose che non si possono dire però vedetevelo perché è veramente veramente molto bello e questa è la carta che appunto mi sono trovato a spoilerare scontro tra titani una creatura bersaglio lotta contro un'altra creatura bersaglio istantanea quindi questa è una carta completamente nuova che nessuno aveva vista prima io l'ho vista in anteprima e ne ho parlato su quest'articolo ovviamente è una carta che non credo che era gioco per quanto riguarda le modalità competitive standard modern pioneer e così via però occhio perché il testo all'inizio magari uno lo legge male pensa che è un instant che fa lottare una tua creatura con una creatura bersaglio invece non è così questa fa lottare due creature qualunque quindi può fare nella fattispecie potrebbe fare doppia rimozione cioè hai due pezzi che si ammazzano se lottano io ti faccio l'istantaneo te li faccio lottare uno con l'altro e così via quindi abbiamo e così via e quindi muoiono tutte e due quindi abbiamo insomma vi invito a leggere quest'articolo dove un minimo dico le mie impressioni per quanto riguarda icoria e comunque sia adesso chiudiamo questo chiedo scusa non l'avevo chiuso prima comunque sia icoria è il nuovo set di magic the gathering di cui andiamo a leggere un po' di informazioni qua sul sito ufficiale ed è diciamo la prima volta per tantissime cose per quanto riguarda magic the gathering ragazzi perché abbiamo una meccanica nuova che praticamente mette diciamo ti fa sembrare di giocare commander che è la meccanica come si chiama non incubation non mi ricordo companion meccanica companion poi andremo a vedere questa carta qui che ruga companion soprattutto come è la prima volta e questa secondo me la cosa più importante in cui magic the gathering non crea un mondo completamente basato sulla propria lore ma prende e attinge da qualcosa che già esiste io sono un grande fautore e teorizzatore del diciamo appunto della teoria che dice che se magic prendesse delle ip straordinariamente famose le includesse all'interno del gioco diventerebbe ancora molto più mainstream di quello che è immaginatevi un magic star war su magic avengers con le carte che somigliano appunto somigliano con le carte che sono personaggi di queste saghe non era mai successo prima che magic prendesse qualcosa dal mondo dell'immaginazione esterno e invece signori grazie al fatto probabilmente questa è una mia ipotesi che asbro ha i diritti sui kaiju perché produce i giocattoli e asbro è anche proprietario magic the gathering adesso vedremo i mostri come gozilla king it or a motra che vedete qui all'interno del mondo di icoria quindi la nuova espansione uscirà il 16 di aprile per quanto riguarda il magic arena e magic online che ci riguardano ovviamente molto da vicino mentre invece uscirà poi il 15 maggio se non sbaglio si l'ho scritto qua per quanto riguarda i negozi fisici sperando che l'emergenza di coronavirus ovviamente ci permetta di rientrare a giocare di fare i playlist perché io non vedo l'ora di tornare al negozio ragazzi come vi dico sempre mi state tenendo una compagnia incredibile e vi sono grato e continuerò a tenere avanti questo canale che anzi ho intenzione di espanderlo abbiamo detto inizialmente eccetera però non c'ho una voglia matta e disperatissima di andare a giocare con le carte fisiche ok allora andiamo a vedere quali sono quindi le nuove regole di coria che hanno spoilerato perché sono importanti ci sono anche tante altre prime volte e quali sono le carte che finora ci hanno fatto vedere ok cerchiamo di fare una cosa breve tra virgolette anche se in verità ci sarebbe molto molto a dire allora intanto torna cycle eccoci qua drannit stringer è una carta che ha ciclare quindi quando tra l'altro questo è pure forte che quando c'è un'altra carta e lui nel campo di battaglia fai un danno a tutti gli avversari ed è una 222 questa è limited sarà una powerhouse non credo che la vedremo incostruito ovviamente quindi torna ciclare e poi una appunto l'altra prima volta è sono stati creati i segnalini eccoli qua delle abilità ok quindi questa questa carta che dice a 3 da più 3 più 3 quindi una crescita gigante a 13 ma perché la crescita gigante a 3 perché non darà trample fino alla fine del turno ma darà un segnalino trample che una cosa che non c'è mai stata in magic che adesso è permessa di fare tra l'altro sono stati proprio creati segnalini perché qui non li vedo li ho visti trample counter ricoria vediamo se li cerco subito eccoli qua li ho trovati su questo articolo che ovviamente non conoscevo quindi verranno creati i segnalini e si possono mettere i segnalini che non sono solo i segnali più uno più uno che poi aumentano col tempo ma i segnalini delle abilità questo apre il mondo di magic a tantissime nuove da adesso in poi interazioni segnalini che si spostano segnalini che un segnalino doppio trample che fa doppio lifelink che fa magari nulla magari invece vedremo che come si evolverà però intanto ripeto è una mega prima volta allora andiamo a vedere tutte le carte che hanno spoilerato una per una perché qui ragazzi siamo in un canale che parla di magic competitive quindi andiamo a vedere anche se queste carte potranno essere incluse in qualche formato ce n'è una che secondo me cambierà uno dei formati che siamo abituati a vedere vediamo se ho ragione credo di sì comunque allora alt master league è una tra l'altro questi ci sono il doppio disegno per quanto riguarda non so c'è una razio dietro al doppio disegno per esempio nel drain tutte le carte con l'avventura non il doppio disegno in teros tutti gli dei semi dei quindi non so se tipo tutti i mostri hanno il doppio disegno vediamo non credo perché ce l'hanno pure i place walker allora c'è la nuova abilità di cui dobbiamo parlare mutate quindi questo può queste creature possono essere lanciate per il loro costo di mana che è 4 e abbiamo una 34 fine non possono essere lanciate a 3 con il costo di mutazione quando mutano che cosa succede succede che praticamente la carta viene messa sopra o sotto le altre per creare una nuova creatura non so se qui ce lo fanno vedere eccolo qua quindi questo è come funziona la mutazione quando lanciate per il mutate potete metterla sotto o sopra e a seconda di dove la mettete avrete o una qui in questo caso avremo una 2 4 con tutte queste abilità e in questo caso avremo una 5 4 con tutte queste abilità anzi no scusate conta la carta che è sopra come abilità qui si aggiunge solo vigilance quindi si aggiunge solo cautela perché conta quella che è sopra perché conta il costo di mana convertito perché chiaramente voi direte vabbè ma ci conviene sempre una 5 4 a kira non è che ci conviene mai avere una 2 4 non è così metti questa carta qui muore da di che questa no quindi si conviene avere la 5 4 se ci fosse una carta che ammazza solo le carte in mana convertito più alto di magari converrebbe avere questa con queste abilità ok perché in questo caso le abilità si sommano una con l'altra sono molto molto interessato a capire come funzioneranno queste carte per ora è un po' difficile valutare se entreranno a far parte dei formati eterni o addirittura se entreranno in standard perché sono caratteristiche abbastanza uniche secondo me in limited ci divertiremo molto però non lo so non so quante carte con mutate riusciranno a finire appunto nel competitivo magari sì quelle che ho visto finora non mi sembrano fortissime andiamo alla meccanica companion allora la meccanica companion è una meccanica che diciamo rivoluziona un po il gioco di magic e permette di avere un commander praticamente se il vostro mazzo rispetta delle costrizioni di deck building andiamo a leggere che ruga companion lo start in deck contains only cards with conversion cost 3 or greater and land cards ok quindi se il vostro mazzo c'ha solo carte con che costano più potete schierare che ruga come vostro diciamo commander ma non è un vero commander lo mettete in esilio o nella sideboard e lo potete giocare quando vi pare quindi è come se aveste un'ottava carta ok quando entra nel campo di battaglia fa una cosa ovviamente ok ma la domanda vera è che fine fa quando muore che fine fa quando viene esiliato ecco differentemente al commander non torna alla command zone quindi una volta che muore va nel cimitero fine quindi io non so allora diciamo che questo companion adesso come adesso non mi piace tanto ma ragazzi io ho una grande fiducia in wizard of the cost ma veramente grande quindi io sono convinto che come tutti i cambiamenti a cui ci hanno imposto siamo sopravvissuti al damage on the stack quando hanno levato il damage on the stack siamo sopravvissuti alle mitiche siamo sopravvissuti a planeswalker sopravviveremo anche a companion non è una meccanica che onestamente mi piace perché non mi sembra forte ripeto già mi fai fare il deck in un determinato modo allora dammi la possibilità di giocare questo keruga quando mi quando muore lo rigioco dalla command zone non sarà così quindi fondamentalmente il vantaggio di avere deck buildato solo con mana cost 3 o più che è una cosa impossibile tra l'altro diciamoci la verità è avere un'ottava carta quindi avere una mano a 7 più un'ottava carta all'altro non so neanche come si regoleranno i giaggi per quanto riguarda i deck cioè nel senso io arrivo mi presento devo vedere far vedere la decklist tipo al mio avversario per vedere che non baro che ho tipo solo carte uniche perché ci sarà un altro companion che dice questo non lo so va bene a 3 1 1 5 non la commentiamo neanche il una tra l'altro questa è una mitica ragazzi c'è anche il disegno strano una mitica che si fa 5 una 6 6 volare travolgere travolgere quando questa creatura muta exile car from the top of your library until you exile non land permanent car put the car on the battlefield or into the land puoi pure decidere ragazzi questa è forte non è che scarsa è forte se muta aggiunge comunque un 6 6 trample volare trample a una creatura muta a 6 anziché a 5 ovviamente se la fate a 5 normale non fa niente però poi avete la possibilità di farla mutare e fargli triggerare l'effetto l'effetto è forte per esempio questa carta secondo me potrebbe vedere gioco andiamo a vedere i due planeswalker spoilerati in uno dei due ovviamente troveremo quella carta che dico che secondo me cambierà un po' i formati uno è lucca tra l'altro è nuovo esilia le questa abilità è fortissima ragazzi si va a 5 esilia le top 3 finché hai lucca puoi giocare le creature esiliate in questa maniera quindi fa un vantaggio carte pazzesco questo è il suo secondo disegno esilia una creatura che controlli riveli carte dalla cima del tuo library finché non riveli una creatura con i converted mana cost e la metti nel battlefield allora questo è un effetto molto cattivo che permette di fare delle cose molto cattive perché se dei buildate praticamente solo con embracul con creature gigantesche e avete degli effetti che creano dei token o una terra che crea un token in qualche modo delle creature fate queste fate lucca fate questo effetto e fate embracul subito quindi forte a meno 7 tutte le creature che controllate damage equal to its power to its opponent ok quindi praticamente vincete la partita se avete tante creature ragazzi è il momento di parlare di questo affare questo affare è fortissimo io non so se ve ne siete accorti questo affare è fortissimo fortissimo vive il monster advocate 3 gg legendary plus walker vivien intanto fa questa cosa potete guardare la prima quando volete e potete giocare creare carte creatura dalla cima della vostra library quando volete quindi fa l'effetto non so se vi ricordate di quella carta che credo fosse di amon cat che faceva lo stesso identico effetto era una mitica come si chiamava vabbè non mi ricordo non la vado neanche a cercare stavolta tra l'altro glielo foil ve la vado proprio invece a cercare fisica e quindi già è un affetto che secondo me è forte il prince walker si fa 5 che è tanto a più 1 crea una bestia token e gli potete dare avete visto qui i segnalini come tornano perchè dopo che li dato se ne ho potete dare anche degli altri li potete dare o vigilance o reach o trample vabbè sti cavoli andiamo a leggere questa abilità e la andiamo a leggere con un po' di pathos ok quando castate la prossima creator spell cercate la library per una creatura che costa meno mettetela nel battlefield e poi scegliete rimischiare la library cosa significa significa questo intanto che quando tu fare tutore lo sapete secondo me è una delle cose più forti che si fa in magic anzi è la cosa più forte quindi torniamo al mio vecchio kikipod che è verde blu rosso fate vivien questa ragazzi è una one car combo praticamente one car combo stappate e castate kikigiki non è una one car combo scusate perché non è vero ma serve un'altra creatura castate kikigiki quando castate kikigiki potete tirar fuori le sarca e ci siamo avete vinto quindi se non c'è un counter su kikigiki se non c'è una removal avete vinto quante altre combo a due creature ci sono che costano uno meno dell'altra molte 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 quindi ragazzi io dico che questa carta qui vedrà gioco nei formati eterni e non sarà proprio una schifezza proprio no andiamo a leggere gozilla che chiaramente molto simpatico però mi sembra una carta fortissima 5 173 trample che dice questa è una cosa interessante perché praticamente è esatto il contrario di dora no dora diceva che le creature assegnavano i danni tramite la costituzione qui invece così la dice che le creature muoiono cioè muoiono muoiono dai danni sono guardando la forza non la costituzione quindi questa è una 7 3 che se gli fate bolt non muore gli dovete fare 7 danni in combattimento per ucciderla rimane che a costituzione 3 quindi sulle carte che dicono uccidi una carta con costituzione 3 questa amore uccidi sarebbe distruggi ovviamente luminos broadmouth che è insomma scusate ma non è uguale a motra questo affare qui dove sono le ricoria è diversa noi invece uguale non capisco luminos broadmouth e qui c'è scritto motra regina supersonica creatura insetto volare 3 4 non lo so va bene abbiamo scoperto una cosa strana allora anche questa da vita a delle combo è tra l'altro comunque limonis broadmouth dice che a quattro fa donato e quattro volare e sti cavoli l'abilità è un po potente un po potente vuole avere credito di controllo without flying dice redoni to the battlefield it's on air control with flying counter unit quindi vi muore un pezzo non solo rientra che già è forte e tipo rifà tutti gli etb trigger quindi gli enter the battlefield trigger non solo ripeto gli date pure volare e questa cosa porta un'altra combo dai ve la faccio vedere perché sono buono e così almeno andate in giro a dire quanto è forte akira solemnity players can get counters counters can't be put on artifact credo è se avete solamente in gioco le creature non posso ricevere segnalini infatti guardare tra l'altro la carta è salita dopo un attimo quindi non è che me ne sono accorto solo io avete solemnity in gioco avete motra che sarebbe luminos broad e tirate fuori fanatical fanatical firebrand una schifezza di carta di ravel sovizio in xan comune che conosce tutti perché giocate monored in standard lo uccidete fa un danno deve rientrare deve rientrare con un counter volare non rientra al counter volare perché ciò se è solemnity lo riuscidete fate infiniti danni bella vi ho detto anche questa questo chi è quando questa creatura muta target che abbiamo con un po di azmer 2-2 fino alla fine del torno carina carina questa ne abbiamo parlato questa è la 24 con vigilanza ok questa non può essere bloccata da più di una creatura ok torna pacifismo per forza qui tocca fa pace con queste creature cloud piercer è quello che abbiamo visto prima alla 54 con mutare che quando muta di scarti carta peschi carta questa è rara vediamo che fa è un companion mamma mia vabbè il tuo deck deve contenere solo carte con il convertimento cost pari poi ci diranno 0 se pari o dispari quando entra metti le quattro carte a library in graveyard una creatura con convertimento cost pari la metti nel battlefield carina a 6 1 6 6 vabbè niente di che l'utri un altro companion che dice che tutte le carte non terra nel vostro starting deck devono avere differente linguisti questo riprende il commander quindi se avete un mazzo in cui tutte le carte sono diverse quindi 20 23 24 27 terre quanto vi pare poi tutte diverse potete giocare questo affare e a 3 a flash lo castate copia un instant or sorcery questo è forte secondo me come effetto questo è forte chissà che non vedo al gioco questo affare a 8 a 8 8 8 dettouch quando lo ciclate potete mettere un dettouch counter su qualunque creatura quindi una città niente che forse chissà living hand potrà usarlo no chi è sto coso e città serve il casco wallace lego summons mutate ok è un capo dei mutate quando casti una creatura con mutate pesca e scarti carina oh questo è leggendario va drog a box of thunder a 3 i colori sono quelli di G-Sky è una 3-3 Flying first strike, già mi piace Quando questa creatura muta Uh, questa l'ho letta Questa è forte, forte, forte Cioè immaginate un G-Sky Control Che riesce a mutare questo affare Si muta a 4 comunque E che nel cimitero ha teferino Cioè fai teferino gratis quando muti questo Narset gratis Lo so, io sto in silenzio Perché non è che mi pare che faccia schifo Come effetto, ok? Humori dei Collector l'ho letto L'ho trovato così Comunque Puoi usarlo come companion Questa è una delle restrizioni secondo me Più facili Perché pensate al mazzo umano in modern Voi potete giocare questo qua Come senza fare niente Potete avere quest'ottava carta Cioè non fate niente Ah no, each non land carting starting deck No, perché c'è Fiala Quindi no Però vabbè Se non ci fosse Fiala Potete tipo il mazzo Elfi No, perché quello ha colletto e compagni Vabbè Sarà difficile comunque Riuscire a fare questo Cioè tutte le carte non terra Nel vostro starting deck Devono avere in comune Un tipo di carta E poi lo fate a 4 Una 4-5 Scegliete un tipo di carta E costeranno tutti uno di meno Ma Questa a 9 Una 11-11 trample Che si cicla a 2 Questa a living hand Attenzione Questa a living hand Attenzione Ok Quando lo ciclate Mettete un counter trample Su una creatura Molto molto carina Per il limited Sarà una powerhouse Snapdux Apex of the hunt Se lo castate per la sua mutazione Vabbè Questa è la mutazione Il costo di mutate è 5 Il costo normale è 4 I colori sono quelli di Mardu Quando muta 4 danni a target creator E place walker E guadagnate 4 vite Se no è una 3-5-4 Cioè una mezza cagata Beh C'è double strike Poi così cagata non è Essence cutter Non lo devo commentare Lo conosciamo no A 2 Counter a creatura Fine Chi è questo? Gamas The Destroyer Si fa A 4 Questo costa meno Quando lo muti Allora 4-1-4-4 Con reach trample Quando muta Destroy target art Conchantment And open and control Molto molto carina E' una rara Grimdancer Grimdancer L'ho letto prima Ma non è male Sta carta Pure se non comune A 3-1-3-3 2 counter Prende Minasciare Detach Al lifelink Vedete come cambia il gioco Grazie a questi counter Qui nuovi Oh Questo Oh Questo lo fa i buchi Questo è Un affare con prudezza Che anziché Avere prudezza normale Mette un segnalino E costa 2 1-1 Flying gust Non è un cretino Ragazzi questo non è un cretino Cioè Se per sbaglio Per sbaglio Lo fate tipo Quando avete 4 mana Cioè fate questo Manamorfosi Poi boom Cioè La gente muore Ogni tanto Broccos Apex Of forever Allora Allora A 5-1-6-6 Trampol E va bene Se l'avete Ah ok Carino A 5-1-6-6 Trampol Fine Se lo avete nel cimitero Lo potete castare Con la sua Abbutazione Con la sua Abilità di mutare Quindi lo potete mettere su un'altra creatura a 5 sempre carino certo mitica non so se va bene qui c'è in giapponese crystal giant a 3 è un artifact creator giant al beginning of your turn combat randomly choose one of counter that aren't uh che bella questa cioè a 3 mettete un segnalino random di uno di quelli che non ha quindi ogni combat questo diventa sempre più forte sempre più forte sempre più forte chi è questo? questo è mitico biollante è una si fa con i colori di oddio come si chiama questo qui una volta si chiamava junk adesso si chiama vabbè ogni tanto mi sfuggono le parole non è ovviamente sul thai bianco verde e nero non mi viene non mi interessa dead touch life link una 55 a 5 dead touch life link già ci piace se lo fate con mutare return any number of credit cards with total power 10 from your less or less from your credit to the battlefield cosa? quanto è il costo di mutare? ah il costo di mutare è altissimo il costo di mutare è 7 ok è forte questo cioè l'effetto è fortissimo altra carta in giappo cake abbat a 4 anche lui c'è a mutare è una flying life link a 3 3 quando muore quando muta destroy target character or prince walker europe non è in controllo non male a quanto muta? scusate a 6 troppo vabbè poi chi è questo? Godzilla un'altra volta Itharo the wandering monster questo è leggendario a trample e haste beh però a 7 8 8 trample haste si cicla quando lo cicli lo shuffle it into your library from your graveyard ah ok se l'avete ciclato 4 volte lo mettete in gioco che figata comunque torna nel mazzo e quindi si spera che a ciclarlo tante volte lo metterete in gioco chi è lui? giant mut cocoon a 1 una creatura uomo quando questa muta gli mettete un più 1 più 1 counter vabbè ok non ha neanche il costo di mutare quindi lo dovete mutare con altre creature phoenix perfect life form a 4 è una fenice che muta sempre a 4 quando muta a 1 sacrifice lo sacrifichi e return target phoenix from your graveyard to the battlefield tapped non ci piace non mi sembra che vedrà il gioco kogla ah chi è guarda chi è è king kong ovviamente quando entra nel campo di battaglia questo quando entra normale ah perfetto fa fight quindi a 6 una 7 6 che intanto rimuove un pezzo benissimo quando attacca distrugge i tardi artefactor enchantment benissimo un G quindi a 1 verde 1 in colore return target human contro it's own her hand che carino perché si prende praticamente una creatura e quindi ve la salva tra virgolette e prende anche indistruttibile però quella creatura è essere umana bellissima la lore di questa carta abbiamo appena letto primal empathy e the beginning of your keep the card if you control with greatest power among creators of the battlefield ok se non metti un più uno più uno counter va bene spero che abbiate capito una blu verde il solito effetto blu verde labyrinth raptor ha uno rosso e uno nero è una 2-2 minacciare quando una creatura minacciare viene bloccata wow il giocatore in difesa la sacrifica wow creatori che controlli con minacciare prendono più uno più zero fino alla fine del turno a 2 carina carina limited questa proprio uccide la gente colossification a 7 un incantesimo questa c'è sempre quando creano gli eldrazi fanno gli eldrazi constriction quando creano i mostri fanno un mostratizzazione ah prende solo più 20 più 20 ok però la tappa carino quindi non potete attaccarci subito quindi a 7 se trovate un modo per mettere chiaramente le aure in gioco dal cimitero ditemelo perché la mettete quando entra al capo di battaglia tappa la creatura però gli da più 20 più 20 ok blood card è una removal a 4 distrugge e mettete un segnalino minacciare questa è una comune che o distrugge un artefatto o fa 4 danni ha creatura con flying e c'ha cycling perfetta per il limited questo è un istantaneo a 6 che fa insomma fa come si dice resta una creatura al cimitero e in più fa fight quindi non solo riporta una creatura in gioco al cimitero quindi se avete modo per mettere creature che costano tanto al cimitero lo fate in più rimuove un pezzo all'avversario questo è uno squalo se era visto questo prima ma non si sapeva se era vero a 5 una 5-4 con flash quando entra al campo di battaglia counter target artifact or cradle spell molto molto carina tanto valore in questa carta auspicio starrix questa c'ha mutate di sua una 5 a 5 fa una 6-6 quando muta esiliate carte dalla cima della vostra level finché non esili x permanent dove x è il numero di volte che questa creatura è mutata il numero di volte che vuol dire perché può mutare pure più volte una creatura ah cioè possono fare delle carte da 5 creature questa non l'avevo capito e mettete questi permanenti sul campo di battaglia però scusate se lo faccio una volta cioè a 5 lo muto è mutato una volta sola ah e faccio un permanente vabbè ci sta forte forte eh non è male generalist enforcer legendary humans you control indestructible exile card from a graveyard se è una creatura create un 1-1 solita carta da limited solita e solida carta da limited un archipelagore che è un leviatano a 7 leviatano tra l'altro è una famosissima carta di magic vecchia andatela a rivedere 7-7-7 che c'ha mutazione quando muta tappi x target dove x è il numero di volte che hai mutato e non stappano quindi fa frost titan attenzione alla death oasis sempre nel nel can che di cui non ricordo il nome verde bianco e abzan era facile abzan quando una non token creator muore macinate 2 dopo potete far ritornare una creatura con un convertible cost minore dalla graveyard alla mano sacrificiate questo incantesimo e guadagnate vita per la il greatest convertible quella creatura che ha il maggior converted mana cost e quindi direi che abbiamo oh attenzione guardate chi c'è qui guardate cosa hanno aggiunto proprio la carta cospo allenatoio su every eye tra l'altro ci sarà proprio scritto eccolo qui every eye quindi questo link al mio articolo e che dire fuck me unfamous mamma guardami sono in tv in verità sono su youtube e direi che questo video abbiamo fatto 35 minuti è abbastanza quindi nella descrizione trovate tutto quello che vi ho detto che spero di ricordarmi perché io tra l'altro i video li rivedo ben poco ho dei capelli assurdi è molto probabile che nel prossimo video mi ritroviate completamente rasato grazie per aver guardato al solito vi voglio un sacco di bene viva Icoria ah alla domanda che cosa ne pensi di Icoria la risposta che tanti stanno dando è si ma no ma che brutto Magic però non è questo Magic non è mostri Magic è una cosa un po' più seria eccetera come vi ho detto prima ragazzi io ho fiducia in Wizard of the Ghost io credo che per ora non ne hanno sbagliata una i set in limited sono sempre più belli le carte sono sempre più forti ci stiamo divertendo non sa con questo gioco si hanno problemi con questo quell'altro quindi io dico dagli mi piace sono hypato non me ne frega niente che il gioco non sia o non rispetti quello che è l'immaginario che io ho sul gioco alla fine io mi diverto soprattutto per il discorso della partita scacchi che Magic rappresenta quindi alla fine per me Icoria è un grande sì grazie per aver guardato ci vediamo domani in cui giocheremo Pioneer se giocheremo Pioneer o giocheremo Historic lo so vi lascio col dubbio dagli non si giocheremo non si giocheremo